Musica Parliamo del repertorio di Cantina di Notaio, un video di terminazione di origine controllata, costruita dal 100% di uve agli angoli del votore. Queste sono vendemmiate intorno alla terza decada di ottobre, quando il frutto ormai è ben maturo. Vengono vendemmiate a mano e messe in cassette da circa 20 kg e portate in cantina. Qui avviene un processo di vinificazione che prevede un contatto tra bucce e mostro di circa 10 giorni. Qui riusciamo a portare all'interno del nostro vino tutto il corpo, i sentori più vivi, più interessanti dell'aglianico del votore. Dove il processo di vinificazione passa un periodo di affinamento di circa un anno all'interno di botti messa all'interno di queste grotte di tuffo volcanico in rione rinvoltore. Che vino otteniamo? Il colore è un rubino intenso con riflessi granati. A profumo abbiamo una grande eleganza, sentori di marasca, di prugna, ma anche di liquirizia. E al gusto è molto piacevole, intenso, corposo. Si sente proprio la forza dell'aglianico del votore. È una lavorazione infatti un po' tradizionale. E qui troviamo i sentori classici del nostro aglianico del votore. Il finale è lungo, persistente, anche molto speziato. E quindi questo lo rende perfettamente idoneo da poterlo abbinare con i primi piatti a base di sughi di carne, ma anche con gli arrosti, la servaggina e gli ottimi formaggi. Buona bevuta! Buona bevuta!